Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom mobili di Lillo, adatene a Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico L-Kitchen, il lusso da vivere in cucina.